A tanti di noi è venuto il sorriso sulle labbra quando abbiamo letto della proposta del reddito di inclusione o diciamo reddito di cittadinanza per come lo intendono Di Maio e il resto dei Cinque Stelle, perché ovviamente essendo un tema che è nato e cresciuto all'interno dei movimenti sociali degli anni 90 che molti degli attivisti dei centri sociali del nord-est hanno diciamo imparato a conoscere, hanno portato in piazza, hanno manifestato a favore di questa proposta, ecco leggere ciò che c'è scritto sotto questa voce nel contratto di governo e anche diciamo nella discussione che si sta avendo in questo momento all'interno del Consiglio dei Ministri è abbastanza repellente da tanti punti di vista, perché è un reddito di inclusione che ovviamente da una parte possiamo tradurlo come coazione al lavoro, quindi fondamentalmente è una sorta di continuazione di questo obbligo che noi abbiamo nei confronti del salario, del fatto che continueremo ad essere dipendenti da un certo quantitativo di ore di lavoro e che questo tipo di dipendenza comunque è tempo sottratto alla costruzione di un progetto alternativo, di un progetto di cui si deve nutrire una pratica della democrazia. Tra l'altro in un'epoca in cui le trasformazioni tecnologiche e l'automazione stanno effettivamente ponendo all'ordine del giorno il problema della liberazione del lavoro, ovviamente non di per sé, cioè non in quanto non possiamo dire che le tecnologie siano neutrali e quindi che porteranno per forza a diciamo la liberazione dal lavoro, ma ovviamente se sapientemente usate o se usate secondo una certa direzione politica potrebbero appunto aspirare a questo ideale di emancipazione. Cosa che appunto stiamo dicendo la proposta dei 5 stelle non fa e peraltro è anche una proposta che si attacca ad un'idea di welfare estremamente antiquata, estremamente obsoleta, è un'idea di welfare che non tiene conto per esempio dell'intermittenza, della precarietà, è un'idea di welfare che va di pari passo con la cancellazione della legge Fornero che sicuramente è stata nefasta, però senza proporre un nuovo tipo di sistema pensionistico che possa tener conto di tutti coloro che oggettivamente non hanno un lavoro a tempo indeterminato che permetta loro di fare un giusto versamento e quindi di avere un'equa corrispondenza. Quindi diciamo in tutto questo l'ideale di liberazione che voleva esprimere questo governo pentaleghista, in particolare la parte penta, quindi le 5 stelle, ricade in realtà in una sorta di lavorismo all'estremo se vogliamo. Cioè che per avere un minimo di diritto sociale dobbiamo lavorare anche 9 ore gratuitamente alla settimana, non possiamo rifiutare più di 3 proposte lavorative, anche se queste poi non corrispondono effettivamente alla nostra formazione o al tipo di desiderio che abbiamo verso la nostra prestazione lavorativa. e quindi la domanda che vorremmo farci è, è possibile strappare dalle mani del 5 stelle di questo governo una proposta di un reddito di cittadinanza sensata? Io non perderei tempo su questa questione, semplicemente perché basta andare a vedere la bozza, più che bozza ormai che sta preparando Tria sulla prossima legge di bilancio per capire che di tutto questo non ci sarà traccia. Perché? Per le ragioni che dicevo prima, perché qualunque mossa sul piano delle politiche sociali, delle politiche di sviluppo, delle politiche di welfare, qualunque cosa dipende da come andranno le cose in Europa. dipende anche da tutto ciò che abbiamo appena detto. Quindi, se non mutano le condizioni in Europa, tutto quello che ci è stato raccontato riguardante politiche sociali, tutto è carta straccia. Quindi è inutile anche perderci tempo. L'uniche cose che continueranno sono le salviniate. Quelle possono continuare anche perché sono gratis. Punto. Il resto sono tutte chiacchiere. Parliamo seriamente di questo argomento decisivo? Eh, parliamolo seriamente. Allora, questo argomento decisivo va affrontato esattamente come tu hai detto. Cioè, amici, ci rendiamo conto che siamo in un momento, in un'epoca, in cui quello che è essenza del capitalismo, e senza che Marx, tra l'altro, esaltava, cioè che funziona riducendo il lavoro necessario, riducendo sistematicamente il lavoro necessario per produrre qualsiasi tipo di bene, qualsiasi tipo di servizio, è giunto ad una fase, non dico estrema, perché estrema sarà quando appunto non ci sarà più bisogno di lavorare, quando le macchine faranno tutto quello che ci serve e basta. Diciamo così. Ma è giunto ad una fase di estrema rapidità, di estrema intensità. Per cui non siamo più come in un'epoca precedente del capitalismo, che è durata fino, diciamo, agli anni 70, prima degli anni 80, fino agli anni 70, ma neanche, fino a qui, in cui, diciamo, una produzione di massa veniva, diciamo, entrava in una fase di declino e se ne sostituiva un'altra altrettanto di massa. Per cui, come si diceva, c'era la possibilità appunto di un ricambio, di una sostituzione. No, non è più così. Si funziona a ridurre il lavoro necessario, ridurre il lavoro necessario. Bene. Quindi è inevitabile porsi il problema da un punto di vista di sistema. Inevitabile. E cioè, è inevitabile, porsi il problema di una distribuzione della ricchezza prodotta, che è ricchezza sociale, che è ricchezza prodotta, in effetti, direttamente o indirettamente da tutti, porsi il problema di questa distribuzione in modo che nessuno sia vincolato, per avere un pieno riconoscimento, anche del proprio valore, al di là del proprio valore produttivo, di un reddito garantito a tutti, a prescindere dal lavoro dipendente che svolgono. Dopodiché svolgeranno il lavoro che vogliono loro. Non è che staranno a grattarsi la pancia, penso, perché è estremamente noioso passare la vita grattandosi la pancia. È il peggiore lavoro del mondo, no? E quindi si inventeranno i loro lavori. Questo problema, naturalmente, te lo puoi porre solo gradualmente, te lo puoi porre in modo ragionevole, ma devi cominciare a portarlo, perché è inutile pensare ad un sistema retto ancora da un'etica del lavoro, per cui tu hai un valore come persona nella misura in cui lavori e il tuo lavoro ti viene riconosciuto da chi te lo dà alla fine. Cioè, quindi il tuo lavoro continua a essere un lavoro dipendente. Questo è un grandissimo problema, che i cinquettelle sbracano nel modo più indecente, sputtanandolo poi alla fine, perché un grande problema strategico, culturale, eccetera, viene sputtanato nei termini che tu hai totalmente messo in rilievo. Quindi è un tema su cui lavorare, su cui ragionare, su cui discutere, ma che deve essere affrontato ragionevolmente. E tenendo conto che nella situazione attuale, nel nostro Paese, nella situazione attuale, ancora una volta la centralità dell'Europa, non potrai ottenere nulla, se non nel contesto europeo, se riesci a determinare a livello europeo una svolta politica. Perché se a livello europeo continuano ad essere quelli che hanno appunto trattato la Grecia in quel modo, ragionare di reddito di cittadinanza in qualunque forma è puramente fantastico. Grazie. Grazie a Massimo Cacciari. Allora siamo andati forse... Allora siamo andati forse... Forse... Grazie.